Il busto di Vittoria della Rovere in Pietre Dure di Giuseppe Antonio Torricelli e la Pietà, un compianto sul Cristo morto, opera in cera realizzata da Massimiliano Soldani Benzi, sono tornati a Villa La Quiete dopo 30 anni. Nella dimora estiva dell'elettrice Palatina, ultima discendente dei Medici, di proprietà della Regione Toscana e data in concessione all'Università degli Studi di Firenze, sono state riallestite le sale affrescate di Anna Maria De Medici con preziose opere tardo-barocche, due delle quali restituite dalle Gallerie degli Uffizi, per la precisione a Palazzo Pitti, dove furono spostate temporaneamente negli anni 90. 30 anni fa purtroppo ci fu un furto, furono portate via tante cose, tra cui il tavolo su cui poggiava la teca e una parte soltanto è stata recuperata, due cassettoni, ma gli altri purtroppo a redi sono stati portati via e le due opere che vedete qui che oggi riallestiamo furono salvate da questo furto e furono portate per sicurezza agli Uffizi, dove sono rimaste per 30 anni, fin tanto che non ci sono state le condizioni per poterle riallestire. Noi come sistema museale dal 2016 abbiamo iniziato questa operazione perché tutto il patrimonio artistico contenuto nella villa è di proprietà dell'Università di Firenze, la villa è di proprietà della regione toscana e quindi noi come sistema museale abbiamo iniziato appunto a aprire questo percorso e oggi lo arricchiamo con queste splendidi opere in queste due sale bellissime dell'Elettrice Palatina. Questo nuovo allestimento arricchisce il percorso di visita del complesso monumentale che sorge tra Careggi e Castello, sede delle Suore delle Montalve.